Le gomme invecchiano anche se inutilizzate. In particolare l'ultima generazione di pneumatici invernali invecchia e si cristallizza molto rapidamente, arrivando a perdere circa il 50% dell'aderenza iniziale in soli tre anni, e si possono verificare dei consumi anomali e repentini del battistrada, con perdite di materiale sulla superficie. L'efficacia dell'applicazione dei prodotti Black Traction sulle gomme è documentata con prove di frenata su asfalto sia asciutto che bagnato, con una riduzione dello spazio necessario per fermarsi di circa il 25%, equivalente a circa 5 metri, e con sofisticati strumenti di misura utilizzati nelle competizioni. Gli innovativi brevettati prodotti Black Traction ti permettono di risparmiare perché vengono assorbiti dalla gomma in profondità, ripristinando nella mescola le sostanze perse con l'ossidazione e l'invecchiamento. La durata d'effetto è di vari mesi e quando l'effetto termina, la mescola non è peggiore rispetto a prima dell'applicazione del prodotto, che può essere ripetuta fino alla completa usura del pneumatico. I prodotti Black Traction per rinnovare e aumentare l'aderenza degli pneumatici sono frutto dell'esperienza maturata in oltre 30 anni di collaborazioni nelle corse e li puoi acquistare sul sito blacktraction.com o .it e ricevere direttamente a casa. Non li trovi su piattaforme come Amazon. Grazie per la visione!